Per 60 Milano era dominante. Una squadra che, secondo le prime tre partite di campionato, sarà sicuramente in grado di dirlo per la lotta contro il titolo. Un Milan è stato rinnovato negli uomini, ma anche nello stile gioco colpito un impressionato Roma che. Grandi sezioni della gara sembrava come un il gol togiru. A8. In rigore. Ha sicuramente diretto il gioco. Ma la squadra Mourinho lottato reagire presentando Ielle raddoppiando all'inizio della seconda metà e. Riesce a preoccuparsi Milano solo in finale. Dopo l'espulsione Tomori e con gli attacchi dettati dalla generosità che dalle idee. L'obiettivo di Spinazzo è stato più trovato che perquisito. Consoleventi di Lukaku che almeno si è apprezzato per l'impegno e per una conclusione finita di un po' alta. In attesa delle migliori condizioni.